Cari amici benvenuti in questo unboxing della scroller box e questa è un unboxing molto speciale perché parla della cinquantesima scroller box mai uscita Guardate che carina la spilla commemorativa per ricordare a tutti che sono ben 50 mesi che la scroller box ci tiene compagnia Io non ho le prime scroller box però sono molto felice di aver fatto parte di questa grande famiglia di articoli da disegno A dire il vero questa box è di ottobre e io sono un pochettino indietro ma questo non significa che non sto cercando in tutti i modi di recuperare Infatti non era questa la box che volevo fare ma era una box dedicata agli acquerelli che però per qualche problema tecnico che si chiama sto ancora in prenda ad usarli Non ho potuto farvi vedere oggi e infatti farò vedere un'altra cosa molto carina ovvero magari qualcuno se ne è già accorto una scatola di Copic Esattamente che sono i migliori penarelli esistenti sulla faccia della terra a base alcolica sono quelli dei professionisti Quelli più fighi in assoluto che li compri adesso tra dieci anni sono ancora buoni a meno che tu non li abbia finiti E sono veramente fantastici in questo caso ne abbiamo due uno viola e uno viola più scuro sono veramente bellissimi E questo è l'arte del mese per farci vedere come potevamo usarli in maniera creativa Questo disegno è stato confezionato da Drawing with Waffles una ragazza molto brava che ha deciso di fare un disegno tutto con i toni del viola Anche perché la box prevedeva questo effettivamente infatti guardiamo un attimo insieme gli oggetti che avevamo a disposizione Avevamo la spillina perché è carina, i copiche che adesso andiamo a guardare meglio Una matita, in particolare una Faber-Castell HB Una gomma che non sono riuscita ancora ad aprire dalla sua confezione che suppongo sia una gomma pane Ti dispiace uscire per favore? Ah ma sì le dispiace quindi l'aprirò in alta sede per evitare di romperla In alta sede vuol dire mamma aiutami Qui abbiamo anche delle caramelle viola ma soprattutto abbiamo questa bellissima penna bianca Che può servire per fare riflessi e luci molto carina Adesso guardiamo nel dettaglio questa piccola scatola contenente i copiche Meglio se li tolgo dalla confezione perché fa riflesso Ecco qua gli oggetti della scatolina Ecco qui abbiamo una penna con l'inchiostro bellantinoso come potete intuire dal tappo Abbiamo un copic di una sfumatura sul lilla Un altro copic di una sfumatura sul viola E una penna adatta appunto ai copic che ha l'inchiostro violetto Violetto come l'adesivo della scolar box che c'era in questa box Perché ultimamente ero cominciato a mettere gli adesivi personalizzati E questa cosa è veramente veramente carina Ecco vedete questo foglio? Questo foglio è il retro della scolar box che volevo mostrarvi oggi Ovvero quella a base di acquerelli Che però non sono ancora pronta a mostrarvi Questi sono un po' di esperimenti che ho fatto off camera Utilizzando varie sfumature Utilizzando l'effetto di cielo stellato che va tanto di moda su youtube e su instagram Qui ho fatto i miei esperimenti Ed è qui che vi farò vedere come funzionano queste penne e questi copic Perché è una carta che comunque è adatta a questi esperimenti Più di quella da stampante che di solito uso per farvi vedere come funzionano questi oggetti Questa qui è carta da acquerelli Però direi che funziona molto bene anche se volete usarla per penne o copic Perché comunque resiste bene all'umidità e anche all'alcol Proviamo insieme questa penna con l'inchiostro viola Come potete vedere l'inchiostro è viola Se vi chiedete perché sto scrivendo come un gatto Che non sa scrivere È semplicemente perché altrimenti la webcam mi va fuori fuoco E voi non vedete assolutamente nulla Comunque il tratto come vedete è molto sottile È molto carino per fare i contorni O per fare delle sfumature interessanti Quest'altra penna invece scrive con dell'inchiostro Con i brillantini Penso ve ne possiate accorgere Se giro un pochino il foglio magari lo vedete Che ci sono un sacco di brillantini Ecco qui si vede benissimo Guardate com'è carino E infine abbiamo ovviamente anche i nostri amici copic Che servono appunto per fare la parte grossa del colore Ricordatevi che copic essendo pennarelli A base alcolica potete anche tranquillamente sovrapporli Che fate soltanto bene a farlo Ecco il colore di base è questo qui Quando asciuga diventa un po' più chiaro E se ci ripassate sopra nello stesso punto Diventerà più scuro dove avete ripassato Ma non di molto più scuro perché comunque il colore rimane lo stesso Se volete dare un effetto veramente di ombreggiatura Potete prendere ovviamente l'altro copic E dare un'ombra piuttosto netta A quello che avete fatto fino a questo momento Ecco in realtà Io con questi oggetti Avevo tutto quello che mi serviva Per fare un disegno fatto bene Avevo la penna Avevo la gomma Avevo il lapis Avevo tutto quello che mi serviva Cioè in realtà io con questi oggetti Potevo tranquillamente cavarmela Come se niente fosse Facendo un disegno simile a questo Simile a quello che vi ho mostrato appunto A inizio dell'unboxing Che è quello creato appunto dall'artista del mese Il problema è che io per qualche motivo Stavolta ho avuto voglia di strafare Non chiedetemi perché non mi sono attenuta Magari a disegnare un ametista Di stima universe O cose del genere Non mi è proprio venuto in mente Io quando ho visto questi pennelli viola Ho pensato a una sola cosa Doki Doki Literature Club In particolare ho pensato a Yuri Però mi sono detta Aspetta un attimo Ma che faccio Disegno soltanto Yuri No mettiamoci anche Natsuki E così ci ho messo Natsuki Poi però ho detto Ma che cosa Soltanto Yuri e Natsuki E Monica e Sayori dove le mettiamo? Ma io non avevo i colori Per poter disegnare tutte Evo i colori soltanto Per disegnare i capelli di Yuri E allora che cosa ho fatto? Ho preso un po' di oggetti In prestito Da altre scroller box E ho strafatto Lo ammetto Ho strafatto A dire il vero Io avrei voluto fare Una cosa con gli acquerelli Però mi è venuto Veramente un abominio Perché non so utilizzare Gli acquerelli Quindi mettiamo da parte Questa cosa Però ho ripreso Questi design Che sono quelli ovviamente Di Sayori Monica Natsuki e Yuri E ho fatto Altro E peraltro Intendo Che ho fatto Questo Perché Come vi ho detto prima Fare un solo disegno Stavolta Non mi bastava E ho voluto Assolutamente Esagerare Quindi Anche se sotto Ci sono degli oggetti Che impediscono Nei disegni piatti Date il benvenuto A la mia Doki Doki Literaturkiria Club Disegnata Con gli oggetti Della scroller box Ma c'è la spillina sotto Che mi tiene gli oggetti Sollevati Ma io non ho parole Allora Facciamo un po' d'ordine Sulla schivania E mostriamo nel dettaglio Che cosa ho fatto Anzi Invertiamo disegni Perché li ho concepiti Per essere attaccati al muro Nell'altro verso Perché si Questi finiranno Attaccati in camera mia Comunque sia Guardiamo un attimo Il dettaglio Questi pennarelli Sono stati utilizzati Ovviamente Per fare i capelli Di Yuri Perché ovviamente I capelli di Yuri Sono viola E ho pensato Che questi pennarelli Fossero perfetti Ripeto Non c'era bisogno Che facessi tutto questo Però l'ho fatto lo stesso E sono molto felice Di averlo fatto Perché poi dopo Yuri Quello Natsuki E poi Sayori E poi Monica Ho fatto tutte quante le ragazze Di Doki Doki Di Travel Club Però notiamo un particolare Ovvero il fatto Che i fiocchi Soprattutto si vede bene In quello di Sayori Sono stati ripassati Con l'inchiocso Tutto lucicoso E bel lucicoso Mentre il Il fiocchetto Anzi Che ha la nostra piccola Yuri È stata fatta Con la penna viola Che vi ho mostrato prima Cioè questa Che più che viola È un viola rosso Ma comunque mi piace molto Come colore In realtà Se guardate bene Magari vi siete accorti Che qui c'è anche Uno sfondo rosa Fatto con gli acquerelli Bene Si lo ammetto Ho provato anche A metterci un po' di acquerello Perché mi sto guardando Dei tutorial su internet Per cercare di capire meglio Come funzionano E ho scoperto la tecnica Del facciamo i bordi neti Utilizzando dello scotch Ecco così Ho fatto uno sfondo Prima di cominciare a colorare E direi che come risultato Non è male Avevo voluto farlo Anche qui lo sfondo Ma l'idea mi è venuta Soltanto quando ormai Avevo già finito Tutto il resto Quindi ho paura A rimetterci le mani Di sciogliere l'inchiostro O che cosa so io Buttandoci troppa acqua Perché alla fine Questi sono foglie Molto resistenti Infatti come potete notare Si vede a malapena L'ombra dietro Di quello che ho combinato davanti Non è passato quasi nulla Non dico proprio nulla Ma quasi nulla È passato soltanto Magari dove ho pigiato Un po' di più Però questo è il risultato Quindi sì Gli oggetti della Scolarbox Li ho usati Assolutamente Ho usato solo quelli Assolutamente No Ho sentito il bisogno Di disegnare queste ragazze Le club di letteratura Anche perché dovevo Assolutamente riscattarmi Da questo Qualunque cosa sia Purtroppo Forse ho sbagliato A cercare di fare Un acquerello Così dettagliato Visto che ancora Io non so usare gli acquerelli E non mi sono trovata Neanche molto bene Per il semplice fatto Che io non so usare gli acquerelli Nelle figure grandi Figuriamoci in quelle piccole E quindi ho voluto Riscattare questo disegno Stampandolo da un'altra parte E facendolo Così grosso Ancora più grosso In modo da avere più spazio A disposizione Devo dire che sono Parecchio soddisfatta Di questo risultato Ripeto Non so perché Mi è venuto in mente Di fare questi due disegni Al posto di fare una cosa Più semplice Tutta viola Non lo so cosa Mi è girato nel cervello Evidentemente Avevo una voglia Che impazzivo Di disegnare qualcosa A tema D'occhi d'occhi Di Tattoo Club E Yuri Non mi bastava Volevo averle tutte Esattamente come Kirio Se ci pensate bene E questo è il risultato Che poi magari Chi mi segue su Instagram E se non mi seguite Trovate il link In descrizione per seguirmi Si sarà accorto Che in realtà Questo disegno L'avevo già postato Su Instagram In bianco e nero Addirittura Queste qui Hanno state disegnate Inizialmente a mano E poi lo risistemate In live su Twitch Anche lì Se volete seguirmi su Twitch Trovate il link In descrizione Insomma Questo disegno Praticamente L'ho cominciato a novembre E l'ho finito ora Pensate un po' Quanto è che ci lavoro Perché veramente Ci è voluto tanto Tutto iniziò Da uno scarabocchio Fatto sul quaderno Che mi porto in giro Quando esco di casa Di Sayori Così E poi alla fine È nato tutto questo Perché mi piaceva Fare questa cosa Quindi ragazzi In realtà Per quanto gli oggetti A disposizione Mi avrebbero permesso Di fare qualunque altra cosa Viola Possibilmente viola Neanche troppo dissimili Da quella fatta Appunto Dall'artista del mese La vostra Kiri Ha preferito Esagerare Ecco Anche perché Mi dispiaceva Non avere tutto Il gruppo completo Insomma Per quanto io scippi La Natsuri Volevo avere Tutto il club Al completo E per quanto sia bellissimo Il disegno Dell'arte del mese Sia molto carino Una cosa che mi piaceva Prendermi in camera E robe così Ho avuto voglia Di fare questo E sinceramente Mi fa molto piacere L'ho fatto Mi raccomando Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Forse è vero Che non ho usato Solo gli oggetti Della Scholarbox Ma non di questa Scholarbox In realtà ho usato Praticamente solo oggetti Di Scholarbox in generale Perché ormai lo sapete Sono diversi anni Che faccio questo tipo di video Un po' di oggetti Li ho collezionati E mi sono divertita Anche a fare le ombre Devo dire che Tra di loro I copi che si mischiano Veramente veramente bene Cioè guardate anche qui Che effetti Nei capelli Le ombeggiature Tutto come si sfumano Bene una con l'altra E poi ovviamente Per fare tipo Ho utilizzato la penna Con l'inchiostro bianco Perché è esattamente Il modo migliore Per poter fare queste cose Senza troppi problemi Io ne ho diverse penne bianche Devo dire che alcune Sono meglio di altre Ma questa è veramente bellina Mi raccomando Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Del mio Doki Doki L'Itea True Club Che doveva essere viola Ma poi è diventato multicolor E poi ci ho messo Poi gli acquerelli Perché si Mi sto preparando Per fare una Scholarbox Con gli acquerelli Ormai ci sto impazzendo Da questi acquerelli Però vi faccio Un piccolo spoiler Il disegno Che intendo colorare Con gli acquerelli È questo Non so dirvi Se sarò in credo Di farlo Spero tanto di sì Perché altrimenti Dove colorarlo Con qualche altro sistema Che non mi faccia sentire Completamente inadeguata Detto questo Grazie a tutti Alla prossima Con il regalo Che ha fatto casino In questo momento E Kira Eterna Love Ciao E mi raccomando Ricordatevi Che in realtà Secondo i criteri Di questo gioco Io avevo dovuto disegnare In realtà Come si può dire Soltanto Monica Perché le altre Che a quest'ora Dovevano essere Ciao 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 c'è 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 Grazie a tutti